Non c'è niente di male a chi è che non piace il denaro Questa sera per il Vulci Live Fest al Parco Naturalistico Archeologico unica data nel Lazio per Edoardo Bennato dopo una trionfale turnet teatrale di sold out il cantastorie che da 40 anni mortala con i suoi brani un mondo odierno fatto di buoni e cattivi, sveffeggiando i potenti e inneggiando la forza umana del popolo passa anche per il più classico tra i sentimenti ispiratori dei poeti della canzone, l'amore Carice e sapori sotto le stelle una notte di enogastronomia, folklore e musica sarà l'occasione per scoprire le bellezze naturali e culinarie di Royate il suo borgo medievale che regalerà ai visitatori atmosfere magiche fatte di suoni, balli, canti e profumi da altri tempi si comincia dalle 15 fino a notte fonda e dalle 19 apertura anche di un'area bimbi con tante animazioni all'anfiteatro festivale di Albano Nonsense e amiche di Maria il musical della Compagnia dell'Alba guidata da Gabriele Di Guglielmo due ore di divertimento assoluto nelle quali si racconta la storia surreale di una zuppa al finocchio servita a cena dal suo re Giulia, le sorelle del certo sino a zero gli effetti saranno davvero imprevedibili sogni e desideri a San Lorenzo tutti a caccia grazie a tutti